Sara Clisora è un altro volto nuovo della Foppa Pedretti, giovanissima di lei, parlano veramente molto bene, dicono essere un talento, in questi due mesi ha dato prova, insomma anche delle sue qualità, ora arriva il campionato. Intanto perché la considero una squadra con una grande tradizione, è convinta di poter migliorare molto qui, visto che gioca in un'ottima squadra e con buone giocatrici, anzi lei ha detto di grandi giocatrici, quindi ha la possibilità di migliorare anche il suo gioco. Che tipo di gioco prediligi, insomma, qual è la palla che preferisci, palla alta, palla tesa? Palla alta, palla alta è my favorite, palla alta. Buon campionato, good luck. Grazie.